Damiano Pili del San Bernardino, pareggio preso per i capelli, l'imbattibilità continua, un commento sulla partita ed in generale perché ho visto anche che oggi eravate 13 in distinta. Allora pareggio all'ultimo respiro, importantissimo perché comunque consente di continuare l'imbattibilità nel campionato. È una cosa che serve molto per il gruppo perché comunque come avete visto da fuori eravamo contattissimi, molti di noi compreso il sottoscritto ha giocato con Infortunio e comunque ci siamo presentati contro un'ottima squadra perché glielo ho detto dall'inizio, Mr Gallito lo conosco, ci siamo conosciuti più di una volta sui campi e sa perfettamente cosa ho pensato dalla sua squadra. ha degli ottimi elementi e l'ha dimostrato. Purtroppo è stata, come anche lui mi ha confermato ancora prima che iniziasse, è stata un po' caratterizzata dal forte vento e diciamo che di bel gioco è stato espresso veramente poco. L'abbiamo spuntata, siamo contenti così, continuiamo ad andare avanti su questa strada per ottenere la vittoria di questo campionato il prima possibile. Ok, grazie Damiano, in bocca al lupo. Ciao Paolo, ciao Paolino, ci vediamo.